Benvenuto o benvenuta sul mio canale YouTube o bentornati se siete degli assidui frequentatori del mio canale io sono Pierpaolo Cavagna, questa è una nuova puntata di Storie di Ordinaria Pedagogia dedicata a domande e risposte il format dove provo a fare il grillo parlante e rispondere alle domande che i colleghi mi mandano a questo indirizzo email e questa cosa qui faceva tanto telegiochino degli anni 90 partiamo al volo gentilissimo dottor Cavagna, mi chiamo Ludovica ho una laurea triennale in scienze educazione e una laurea magistrale in scienze pedagogiche lavoro come coordinatrice in due nidi di infanzia sotto cooperativa negli ultimi anni, mi scrive Ludovica, ho notato una vera e propria crisi da parte dei genitori che inevitabilmente si ripercuote sul comportamento dei bambini questo ha fatto crescere in me la voglia di aiutare questi genitori ho iniziato a frequentare corsi, seminari, conveni online su come sostenere la genitorialità la mia idea sarebbe quella di aprire uno studio e mantenere comunque il mio ruolo di coordinatrice è fattibile tutto questo? quale sarebbe la strada migliore da seguire? la ringrazio per i preziosi consigli dunque, Ludovica, una porzione di risposta alle sue domande gliela dico subito l'altra gliela dico dopo perché anche il collega successivo mi pone delle domande analoghe e quindi per un discorso di sintesi vi risponderò insieme rispondo alla sua domanda, la prima è fattibile tutto questo? cioè lavorare in libera professione e parallelamente mantenere un lavoro subordinato? sì, a patto che non ci sia concorrenzialità tra i due lavori e a patto che il lavoro autonomo, quindi dal libero professionista non vada a ledere, anche dal punto di vista dell'orario lavorativo, il contratto subordinato cosa bisogna fare per mettersi in regola da questo punto di vista? chiedere al datore di lavoro, quindi alla cooperativa sostanzialmente il nulla osta in forma scritta cosa dovrà metterci in questo nulla osta? che è in carta libera? chiaramente tutti i suoi dati e poi dovrà indicare che ha intenzione di avviare un'attività autonoma, libero, professionale nella quale andrà a svolgere questi servizi e elencherà le tipologie di servizi dovrà anche specificare che questi servizi saranno svolti in un orario extra lavorativo rispetto al contratto subordinato Salvatore invece mi scrive buongiorno, gentilissimo dottor Cavagna buongiorno Salvatore sono laureato in scienza ed educazione e oltre alla triennale ho portato a termine anche un master in educatore esperto per la disabilità sensoriale e multifunzionale in questo momento sto portando a termine la magistrale in pedagogia clinica presso l'università degli studi di Firenze navigando in rete alla ricerca di informazioni rispetto all'apertura della partita IVA come pedagogista Salvatore mi dice mi sono imbattuto all'interno del suo sito per questo motivo ho deciso di contattarla nella speranza di poter avere un riscontro rispetto ai miei numerosi dubbi allora, le domande di Salvatore fondamentalmente sono abbastanza semplici negli ultimi mesi ho sentito l'esigenza di provare a capire come aprire una partita IVA e di conseguenza rendere diverso il mio lavoro allo stesso tempo la cosa mi spaventa molto perché non conosco bene questo mondo mi piacerebbe capirne di più il mio intento è quello di provare a capire in che modo possa lavorare il pedagogista o l'educatore in libera professione con famiglie, con figli, con disabilità allora, ecco perché dicevo prima alla collega Ludovica che la risposta a entrambe le domande al di là della parte tecnica, quindi sull'apertura della partita IVA sul come farlo da un punto di vista tecnico entrambi mi chiedono come farlo da un punto di vista funzionale dunque, ho due risposte a riguardo la prima risposta è una risposta letteraria tecnica, metodologica a cosa sto facendo riferimento? sto facendo riferimento a questo questo è non so se metterà mai a fuoco credo proprio di no, forse sì questo è libera professione per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici questo è il mio manuale che ho dedicato e che dedico dal 2015 con continui aggiornamenti questa è la nuova edizione questa è del 2020 ma ci sarà sicuramente anche un aggiornamento con la nuova legislazione e il nuovo regime forfettario 2023 dicevo, questo è il manuale che serve tecnicamente per avviare una libera professione in ambito pedagogico o educativo professionale socio-pedagogico è l'unico che sia mai stato edito in Italia è l'unico che tratta questo argomento accompagna il professionista, il futuro professionista dai primissimi passi da chiarirsi a livello legislativo, legale su cosa si andrà a fare fino all'emissione della prima fattura quindi durante tutto il cursus della resa operativa del lavoro libero professionale ci sono varie sezioni trovate magari, metterò in descrizione l'indice questa è la prima risposta dal punto di vista tecnico questo vi dice come fare ma sia Ludovicca che Salvatore mi chiedono cosa fare oltre al come farlo ora, imparare a fare il libero professionista è un qualcosa di estremamente complesso sicuramente non sono in grado non si può dare una risposta con un video su YouTube è un qualcosa che richiede ore decine, centinaia di ore di studio di formazione e non solo di simulazioni di sperimentazioni in pratica questo lo sappiamo, lo sappiamo benissimo io e lo sanno benissimo le colleghe con le quali abbiamo strutturato APR l'Accademia Pedagogica Relazionale la nostra risposta a come formare i pedagogisti noi formiamo pedagogisti qua magari da questo lato adesso vi metterò lo screenshot ho la parte, l'home page del sito troverete anche l'indirizzo chiaramente la risposta che do a Ludovic e a Salvatore è date uno sguardo approfondito al sito spero di vedervi in aula per fare i liberi professionisti bisogna formarsi è un mondo molto critico, bellissimo che va gestito con attenzione sia verso il cliente sia verso il professionista perché sono il rischio di farsi veramente 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 male e di fare male quindi la mia risposta è questa collega numero 3 Federica che mi scrive sono una sua grande stimatrice grazie mille Federica, gentilissima credo di aver letto, seguito tutti i suoi video presenti ovunque e letto parecchi dei suoi libri sono molto curioso di leggere il nuovo in effetti su YouTube le chiedevo proprio maggiori informazioni sul paradigma pedagogico che lei mi proponeva che lei proponeva e mi ha risposto con calma arriverà tutto è arrivato eccolo qua è già edito in formato cartaceo e digitale è reperibile su tutti gli store nazionali e internazionali in descrizione vi lascio direttamente il link del distributore Streetlib perché è una realtà italiana così diamo una mano allora a crescere niente semplicemente dategli un'occhiata se non volete acquistarlo se pensate che non valga la pena l'acquisto ed è una cosa un pensiero assolutamente plausibile lo trovate anche in biblioteca rubatelo a un collega fatevelo prestare e poi valutate federica mi dice secondo lei è corretto che i progetti sull'affettività nelle scuole e relativi bandi per l'assegnazione degli esperti siano aperti solo agli psicologi so che lei riveste entrambi i ruoli sì io sono anche uno psicoterapeuta ma io da pedagogista e formatrice non riesco a capire se spingermi a convincere i dirigenti scolastici a dare una chance anche a noi pedagogisti quando formati sul tema naturalmente o se ci siano delle effettive leggi o disposizioni che regolino questo tipo di formazione in classe alla fine si tratta di prevenzione e promozione della consapevolezza emotiva affettiva e sì in effetti sessuale ma non di diagnosi e neppure di terapia federica chiude dicendo sono convinto che lei avrà una spiegazione più articolata al tema spero tanto voglio offrirmela scusi la lunghezza la sintesi non è una delle mie dosi nemmeno una delle mie ma assolutamente sì federica non vedo proprio perché non poter proporre dei laboratori dei corsi delle esperienze dei momenti di formazione educativa e pedagogica che trattino anche la tematica delle emozioni c'è una brutta cultura in Italia dove tra professionisti pare che si debba dividere splittare settoralizzare fare a pezzettini le persone che abbiamo davanti che poi diventano clienti che poi diventano utenti che poi diventano pazienti dove ogni professionalità dovrebbe accollarsi una porzione di questa utenza come se io prendessi me stesso e mi dividessi in una porzione corporea una porzione sensoriale una porzione emotiva una porzione cognitiva una porzione immaginativa se fosse realmente possibile e se questo fosse applicabile da un punto di vista pragmatico probabilmente io soffrirei di schizofrenia dissociativa perché la mia struttura di personalità sarebbe scissa in 5-6 parti siccome mi pare insomma di avere ancora un buon esame di realtà insomma so che sono qua oggi è il 29 di marzo sono le 10 e 10 io sono Pierpaolo Cavagna so che ieri era ieri e so quello che dovrò fare questo pomeriggio e domani quindi sono orientato nello spazio, tempo e persona questo per dirle cosa? per dirle che queste divisioni sono divisioni assolutamente assurde e sì certo che possiamo lavorare con le emozioni ogni qualvolta noi lavoriamo con un processo che è di tipo educativo, pedagogico stiamo lavorando con le emozioni ma stiamo lavorando anche con l'immaginazione con la cognizione con il corpo con le componenti sessoriali noi lavoriamo con la persona e della persona fanno parte anche le emozioni ci mancherebbe pure e quindi assolutamente sì certo che ci lavoriamo lei mi dice nelle scuole di solito queste sono cose riservate agli psicologi ora lei non mi ha scritto da dove vive dove lavora Federica ma io sono sardo e noi ad esempio in Sardegna abbiamo un progetto enorme che copre praticamente tutti i plessi didattici si chiama Iscola Iscola con la hat con la chiocciolina quindi a scuola Iscola è il termine che identifica la scuola in sardo è un gioco di parole che cosa prevede questo progetto enorme regionale, continuativo che dura da anni e continuerà e impiega tantissimi operatori e milioni di fondi gestionali di euro allocati prevede l'intervento sia psicologico che pedagogico all'interno delle scuole con due tre linee le linee sono i vari indirizzi del bando tra cui uno che prevede anche i laboratori e assolutamente sì i colleghi psicologi lavorano con i colleghi pedagogisti ci mancherebbe che non lo facessimo quindi assolutamente sì Federica a volte prima di acquistare un telefono cellulare uno smartphone c'è bisogno che uno con il maglione a collo alto nero tale Steve Jobs si svegli una mattina e dica adesso facciamo una presentazione presentiamo questo pezzo di plastica e silicio a tutto il mondo da quel momento tutto il mondo ha detto porca miseria ma lo sai che magari mi serve uno smartphone? ecco probabilmente mi viene da pensare che nella sua realtà nessuno si sia ancora svegliato con un'idea del tipo dirigente scolastico ma non è che magari serve un pedagogista che lavori sull'emotività a scuola? a quel punto non mi stupirei se il dirigente scolastico dicesse ah forse qua ci vuole un progetto domanda numero 4 domanda di Susanna che mi aveva già scritto allora Susanna in una condizione un po' particolare mi dice mi chiede più che altro ci siamo già sentiti qualche anno fa in merito alla questione la questione è questa la laurea LM85 dà diritto al titolo L19 anche se proviene da un percorso ibrido io ai tempi avevo già dato una risposta a Susanna ma l'avevo anche detto provi a sentire la senatrice Iori perché la senatrice Iori su questo punto ha sempre detto forniremo delle spiegazioni a seguire forniremo spiegazioni a seguire forniremo spiegazioni a seguire le ha mai fornite le spiegazioni a seguire e non le ha mai fornite né lei né il legislatore perché poi si è ribaltato tutto il governo ne sono susseguiti un altro paio siamo passati su altro l'ondata del che figo abbiamo una legge per gli educatori è passata infatti una legge non ce l'abbiamo abbiamo degli articoli in una legge di bilancio e quindi Susanna la risposta è ancora questa no la laura magistrale in automatico non dà il titolo inferiore triennale assolutamente no ma questo in nessun ambito l'unica possibilità che ci sia di poter sfruttare questa cosa è venire assunti con un demansionamento tanto è vero che la collega chiede la cooperativa deve assumermi come di due educatore con titolo o può assumermi come di uno senza titolo ecco l'errore è qua Susanna la cooperativa non può assumerla né come di due né come di uno a lei spetta l'allocazione nel contratto collettivo nazionale cooperativa è è uno perché? perché lei è una pedagogista il problema sta qui sta nei pedagogisti con una laurea magistrale che vanno a fare gli educatori e quindi non solo piegano la testa un sistema che è deforme ma si infilano anche dentro questi casotti quindi la risposta numero uno è tutte le lauree magistrali danno legalmente il possesso del titolo inferiore risposta diretta no non c'è nessuna legge che dice questo e se nessuna legge lo dice è illegale ultima collega e ultima domanda Francesca che mi dice ho una laurea LM85 in scienze ed educazione lavoro come educatore professionale in una struttura psichiatrica residenziale socioassistenziale a media intensità per alcune necessità mi scrive Francesco ho chiesto il trasferimento in un centro diurno ho preso un CRAP ma non ero in posse solo il titolo sanitario lo scorso anno mi dice ancora ho conseguito il master con il campus educatore socio sanitario ora la domanda è questa vorrei capire se posso iscrivermi all'albo e a quali iscrivermi e ancora con il master conseguito unito all'esperienza maturata posso avere la possibilità di essere trasferita al centro diurno in CRAP oppure in RSA e Francesca c'è un po' di casotto in questa situazione allora partiamo da zero vorrei capire se posso iscrivermi all'albo e a quali iscrivermi allora albo ce n'è solo uno e l'albo è quello degli educatori professionali di area sanitaria al quale ci si può iscrivere avendo un titolo di studio di diploma di educatore professionale sanitario classe SNT2 quindi i sanitari colleghi di area medica solo ed esclusivamente con questo titolo fino a qualche anno fa per un breve periodo un periodo di transizione di creazione dell'albo è stato possibile iscriversi anche ai cosiddetti elenchi speciali questo per far sì che colleghi che lavoravano già in ambito sanitario prettamente sanitario pur avendo un titolo socio pedagogico potessero mantenere il posto di lavoro questa possibilità attualmente preclusa quindi l'unica possibilità è avere un titolo di studio sanitario lei mi chiede posso iscrivermi? la risposta è no l'albo è quello ed è solo quello perché non esistono albi socio pedagogici o pedagogici benché ci siano due proposte di creazione di cui magari parlerò in un altro video l'albo è solo quello lei ha i requisiti? no non li ha c'è possibilità di iscriversi utilizzando l'esperienza pregressa eccetera eccetera a titoli conseguiti? no lei mi dice ho conseguito il master con e-campus educatore socio sanitario io continuo a non capire perché alcuni enti vendano questi corsi che in teoria in teoria instillano nel corsista l'idea che possa essere un miglioramento della condizione e dal mio punto di vista invece è peggiorativo perché lei è un pedagogista è un LM85 e ha seguito un master per i triennali una roba che per me è non la capisco non la capisco quindi la risposta è no da questo punto di vista Francesca ma lei mi dice ancora posso lavorare in una comunità residenziale socio assistenziale socio assistenziale posso lavorare in un centro di urno in un CRAP oppure in un RSA e questo lei lo può fare questo lei lo può fare sulla base della legge 205 del 17 e successivi aggiornamenti tra cui un decreto di chiarimento dell'allora ministro della sanità che le metterò in descrizione pedagogisti educatori professionali socio pedagogici possono lavorare anche in ambito sanitario con funzioni prettamente pedagogiche ed educative quindi assolutamente sì ma non in funzione di master corsi corsettini vari ed eventuali bensì di queste due leggi specifiche che ripeto troverà sotto grazie mille per essere rimasto o rimasta con me fino ad ora spero che il video sia stato di tuo gradimento se hai qualche domanda magari in questo momento ti faccio ricomparire il mio indirizzo email o facciamo così direttamente il mio portale così entri da lì mi invii compili il form lo invii e se hai qualche domanda e se io so rispondere che non è una roba da poco ci aggiorniamo in un prossimo video grazie mille nuovamente se il video ti è piaciuto veramente tanto ti invito a iscrivermi al canale stiamo diventando quasi 3000 che per essere un numero come dire legato a un canale di pedagogia e psicoterapia è veramente una roba enorme condividi il video se è stato interessante se pensi che possa interessare a qualcun altro e se mi lasci anche un commento e un like è una cosa molto gradita grazie mille grazie mille